Appena prima del taglio del nastro, Presidente Di Paola, si può dire Benedetti Cavalli? Beh, alla presenza di Sua Eccellenza certamente, ma lo sport è una filiera di valori molto molto importanti e il cavallo aggiunge a questa filiera il valore dell'uguaglianza, il cavallo non fa distinzioni e quindi insegna ai nostri giovani questo valore importantissimo del rispetto, dell'uguaglianza e questo è un altro grande dono del nostro amico e compagno del sport Cavallo. Sua Eccellenza, è una meraviglia del creato il cavallo. Esattamente, nella Bibbia sono centinaia le citazioni che riguardano i cavalli come del resto di animali, a riprova del fatto che la Bibbia è popolata di uomini, donne ma anche animali, piante, c'è un equilibrio armonico in tutta la creazione e certamente il rapporto col cavallo è uno di quelli importanti. Che ci insegna tanto, vi ringrazio tanto e vi lascio alla cerimonia. Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.